Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi gentili ascoltatori e ascoltatrici di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, penne da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu. I 16 milioni di euro annunciati dal senatore D'Alfonso per la presunta realizzazione dei modi guardiani del porto di Pescara rappresentano una goccia in mezzo al mare. Per consentire l'intervento servono almeno 51 milioni di euro complessivi, come ha precisato in commissione il presidente dell'Arap, Leombroni, e oggi disponiamo solo di 31 milioni, ovvero 16 milioni di fondi del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e 15 milioni di euro di fondi masterplan. Tradotto, con tali risorse, apriremo il cantiere, forse. Poi però il senatore ci deve dire come intende portarlo avanti se mancano ancora 20 milioni di euro in cassa e deve spiegarlo senza elargire folli illusioni o promesse da Pinocchio e Pescaresi. Se non crede ai nostri conti, può tranquillamente telefonare al geometra Leombroni, presidente dell'Arap, che è la stazione appaltante delle opere. Lo ha precisato il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, intervenendo proprio sugli annunci fatti dal senatore D'Alfonso. Intense grandinate nel pomeriggio di ieri sulle località della costa del Terramano, ma anche del pescarese del Chietino. Forti precipitazioni con chicchi anche di significative dimensioni si sono verificate a Pineto, Silvi, Città Sant'Angelo, Atri, ma anche a Montesilvano. Segnalati anche danni alle auto, in particolare sull'A14. Si sono registrate code tra Pescara Nord e Pineto per auto con parabrezza sfondato e altre vetture che si sono fermate all'interno delle gallerie in attesa del passaggio della Grandinata. Saranno ultimati in tempo per la riapertura dell'anno scolastico i lavori di manutenzione straordinaria avviati durante l'estate. In settimana si definiranno i 110.000 euro di intervento della Scuola Media Virgilio, dove si lavora già da settimane per risolvere situazioni di friabilità e sicurezza. Questi interventi fanno parte di un pacchetto che ha visto sette scuole prioritariamente interessate perché il numero di studenti e le criticità riscontrate richiedevano priorità. Lo ha precisato l'assessore all'istruzione ed edilizia scolastica del Comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, chiarendo. Alla Virgilio abbiamo risanato il muro controterra della palestra, provveduto alla sua impermealizzazione dall'interno con intonaco osmotico. Lavori di impermealizzazione anche sul terrazzo che subiva infiltrazioni da anni. Nel progetto anche l'adeguamento antincendio della scuola, con la realizzazione di compartimentazioni antincendio e l'installazione di tende tagliafuoco nei pressi delle scale di emergenza. Così anche la primaria Renzetti, nel comprensivo 10 interventi per circa 20.000 euro con l'adeguamento degli spazi per attuare un innovativo progetto. Sua scuola senza zaino nella scuola è da tempo iniziato un lavoro di informazione e preparazione anche didattica ad opera della dirigente Stefania Petracca sul metodo riconosciuto dal Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca che prevede anche una rivisitazione degli spazi comuni. Rende noto sempre l'assessore Cuzzi. Rendere transitabili solo alle bici le piste promiscue bici pedoni Sistemare tutti gli attraversamenti stradali delle piste ciclabili con l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale Fare analisi e destinazione dei fondi ricavati dalle multe stradali da parte della Polizia Municipale utilizzando tali fonti per la manutenzione delle piste e per una campagna di comunicazione per l'educazione stradale dei cittadini Dare la possibilità di analizzare insieme il progetto per il collegamento delle piste ciclabili esistenti ed il progetto di via lago di Capestrano la strada pendolo Sono le richieste avanzate da FIAB Pescara Bici durante la prima riunione del tavolo permanente sulla mobilità sostenibile promosso dall'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Pescara Cuzzi E' scattata ieri come da protocollo regionale in caso di pioggia l'ordinanza temporanea di divieto di bagnazione per via Galilei, via Balilla e Fosso Vallelunga a Pescara E veniamo allo sport In Serie B arrivano i primi tre punti stagionali ed è una vittoria pesantissima Piove forte lo stadio adriatico di Pescara dove però piovono anche i rigori Il primo per il Livorno calciato a lato da Giannetti gli altri per il Pescara realizzati da Cocco Tanti brividi nel finale dopo il gol del 2-1 di Porcino con il palo di Cossack e il salvataggio di Castrati ma alla fine braccia al cielo e il cammino del Pescara dunque che è iniziato nel migliore dei modi con la compagine bianca-azzurra seconda in classifica con 4 punti E si è conclusa con la vittoria di Molfette e Vasto la ventiquattresima edizione della regata dei Gonfaloni i 22 equipaggi in città da sabato si sono affrontati sul fiume per la gara che li ha visti impegnati lungo un miglio per gli equipaggi maschili e mezzo miglio per gli equipaggi femminili Molfette si è giudicata il podio per le squadre femminili mentre per quelle maschili la vittoria è andata a Vasto Oggi è lunedì 3 settembre la Chiesa celebra la memoria di San Gregorio Magno Papa e Dottore della Chiesa e siamo alle previsioni del tempo Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino al primo pomeriggio nuvoloso nel resto del pomeriggio nelle prime ore della sera e poco nuvoloso in tarda serata con temperature da 20 a 26 gradi e venti deboli nelle zone interne cielo sereno fino alle ore centrali poco nuvoloso nel pomeriggio e nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 18 a 25 gradi e venti deboli il mare è previsto quasi calmo questa era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne a voi tutti grazie per averci seguito buona giornata abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica alla prossima notizia a nove a notizia a notizia a notizia a notizia a notizia Grazie a tutti.